Io sono il presidente del gruppo ciclistico Avis, un gruppo formato da circa 63 atleti che sono a divenire perché si iscrivono in continuazione. Stiamo cercando di fare anche alcune cose per i ragazzini, un diverso tempo fa avevamo proprio dei ragazzini, tanto è che sono arrivati degli ottimi atleti tipo Jennifer Fiore che è una professionista, c'è Franco Di Vita, non parlo di Politorio perché è stato un grandissimo campione, però noi stiamo portando avanti da circa 40 anni questa attività. Io sono l'ultimo arrivato e cerco di impegnarmi per il meglio, sperando di fare ulteriori possibilità per questi ragazzi che vogliono partecipare al ciclismo.